Salve a tutti NovaGamer, benvenuti in questo nuovo video su FIFA 16 pronostici serie A team Oggi avremo a confrontarsi Milan e Juventus nel San Siro di Milano Chiaramente questo non va a modificare i nostri gusti di tifoseria Sperando che Lorenzo non sia troppo di parte e che faccia il buon gioco Nel caso vi stravincerò io Devi di mettere la prima maglia dai, ci sta E ok, quando tutto è pronto possiamo cominciare Un saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo, la parte di Piero Gifardo e Stefano Ok, tutto è pronto, calcio d'inizio Benissimo, iniziamo nell'area nostra con un po' di passaggi Per sbiedire la mente dei giocatori avversari Ma facciamo un erroraccio Un erroraccio bruttissimo che ci costringe a riprendere la palla Entrare in centro campo Poi un bellissimo dribbling Tenta il tiro ma viene bloccato dalla difesa rosso-nero Una tattica più offensiva, quella impostata dalla Juventus All'inizio dei primi 4 minuti di gioco Ma ecco il Milan che ci prova da subito Sotto rete il tiro Che palo, no, non ci credo Che palo che mi sono preso Copre la palla con la spalla Non ci riesce il dribbling Fallo Da dietro fra l'altro Quindi spero che riceveriamo una bella sanzione Perché altrimenti mi incazzo Direi da dietro Ultimo uomo Giocherò in 10 per 50 minuti No, per 80 minuti più Ero gruppo Giocherò in 10 per i prossimi 80 minuti E quindi espulsione Già nei primi 10 minuti per i giocatori del Milan Che non sembra non aver imparato nulla Dal ritiro Tiro di Pogba che sbaglia Recupero palla centro campo Poi Mandzukic con due dribbling Viene messo a terra Ma non è fallo Marieco l'avanzata rosso-nera Già in area O meglio Già vicino all'area Ricordiamo che la Juventus Ha la difesa più forte del campionato Quindi Chiaramente Difficilmente si farà scalfire E quindi Siamo già abbastanza avvantaggiati Per questo Mandzukic, Mandzukic Che mi segue il pallone Viene agganciato dal giocatore del Milan Pogba Fa un po' di difesa Lui in questo Momento Oddio mio Il tiro di Montolivo Morto vivo Come lo chiamano simpaticamente I tifosi rosso-neri Teniamo la palla sicura ora Perché Dobbiamo far vincere Questo contropiede Pogba Sottolinea Pogba Il passaggio No Sbaglia Sbaglia Perché non tira Perché non tira Chiaramente Errore mio Mamma mia Che brutta giocata della Juventus Che lo sposta Il tiro Ma Lo evita Poi Rilancio Di quel Milan Di nuovo sull'area Un po' tennis Qui Buffon La battaglia E verrà Spazza Con sicurezza Per Morata 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 stelle in quel pallone Passaggio Per Mangiukic 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 Il tiro di Mangiukic Goal 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 Juventus 1 Milan 0 Entra così in vantaggio La Juventus Ecco Mangiukic 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 Per Morata Morata Per Mangiukic Che si trova di nuovo Di nuovo di fronte alla rete Il tiro di Mangiukic Ma Il Milan si difende bene Buffon Si prende un pochino più di tempo Per Marchisio Per Lichsteiner Sulla fascia destra Lichsteiner 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 Si gira Forse vuole tentare il cross No Il passaggio Nulla Ma Ecco Pogba Grazie al rilancio Sbagliato del Milan Il tiro Ma Non Entra nello specchio Della porta Ecco Pogba Pogba Per Perera Perera Per Morata 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 Si allunga il pallone Per scappare agli avversari Si allunga il pallone Un dribbling Il tiro di Morata E sbaglia Siamo Nei due minuti Di recupero Finali Del primo tempo Risultato Ancora Juventus 1 Milan 0 E qui il Milan Che ci ritenta Con un'azione Di Bacca Antonelli Poi Che fa fallo Come ci ha appena ricordato Il nostro Sfidante Che come Sempre sapete È Lorenzo Sempre Lorenzo Con le squadre In casa E sempre io Con le squadre Con le squadre In trasferta E finisce il primo tempo Ok Voglio soltanto dire Che È andata male È andata male Ma ora Facciamo un po' Di cambi E ci rifacciamo Al secondo tempo Vedrete che Alla fine La spunterò io Allora Chi potremmo cambiare Chi si è comportato Molto male Diciamo che Luiz Adriano Non l'ho proprio visto Quindi Cambiamo Luiz Con No Non con Romagnoli Ma con Balotelli E poi A questo punto Direi Dato che Montolivo Sta messo Male 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 Possiamo fare Così Mettiamo Romagnoli In centro campo E mettiamo Un possibile Difensore Che Sarà Alex Non conosco Questi giocatori Ma Siamo pronti Ricominciamo Questo Questa partita E vediamo Cosa succede In questo Secondo tempo Ok Anche se Effettivamente Lui ha Un miglior organico Oh mio dio Già abbiamo rischiato Tantissimo Qui Però si è infortunato Che dira Guarda caso Che dira Cioè è appena entrato E si infortuna Ma 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 Pascondissi Cioè Ma chi ti dice di metterlo Chi te lo dice Ho visto Perera lì Che era stanchissimo Porca puttana Che cazzo ne sapevo Mannaggia Eva E vabbè Dobbiamo ripiegare Su Sturaro Ma Ce la faremo lo stesso Anche con Sturaro L'idraulico Grande Sturaro Possiamo Provare un contropiede Ma non ce la facciamo Il tiro Ok Stavolta Don Donumbo È stato veramente bravo Ci ha tenuto palla Eh Ottimo Non si è preso Nemmeno l'angolo Perfetto No Si è preso l'angolo Vabbè Aspetta Aspetta Uuuu Mano mia Non è roma Vabbè 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 Goal Manzuki Si si come no Ma Voglio tentare Tramite Una specie Di tiki taka A creare qualche spazio Attenzione Ce l'ho fatta Uuuu Traversa Traversa Peccato Ma vabbè Stiamo facendo veramente Tanto male Quindi Oh Benissimo Anche angolo Parte Buonaventura Il tiro di testa Si era piazzato bene Ma Ha tirato male Vabbè No 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 Li Mangiukic solo No Mi hanno lasciato Mangiukic solo Oddio 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 Morata Morata Bravo Donnarumma Difende benissimo Dobbiamo anche sbrigarci Perché la partita potrebbe finire Da un momento all'altro E non voglio assurdamente perdere La prima partita di questo Di questo Let's play Fatto Commentato Perché Si abbiamo altri pronostici Che abbiamo fatto Però Non sono commentati Questo è il primo Che commentiamo E' proprio Juventus Milan Cioè Mangiukic Che viene sempre lasciato Costantemente solo Non capisco perché Vabbè Forse era meglio Cambiare addirittura Modulo No Mi sono annunciato troppo il pallone Non me ne stavo proprio accorgendo Ok Grande Balutelli Prende un pallone No Cazzo fai Ui 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 Qui Azione difensiva Oh mio dio Il tiro di Marchisio Sarà difficile Credo che Marchisio Se ne vada dalla Juve Oddio il tiro Di Storaro Guarda gli infortunato Mi dico Uuu Guarda qua che non ce la fa Porco Cane Eh Grande Donnarumma Tiene il controllo Rischio di cross Via Donnarumma Ok posto No C'è il tiro Dell'idraulico Che Ci ha fatto rischiare Non poco Ci stiamo muovendo bene Attualmente Eh Vede bacca 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 Andiamo Andiamo di nuovo Sulla fascia Destra Oddio No Madone Sto combinando Che cosa Sto combinando Brutta partita 83 Che delusione Che delusione Veramente Peccato Ma abbiamo ancora un pochino di tempo Oddio di nuovo Donnarumma Ok dai rinvio di Donnarumma per tentare fino all'ultimo minuto No La prende No E che caspita Tiro a vuoto Dai dai Tutti in attacco Tutti in attacco per gli ultimi 5 minuti Balotelli 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 Antonelli Antonelli Fuori gioco Di merda E niente Finisce qui Partita Finita In questo video Ho vinto io Perfetto Ho vinto io Con la Juventus Che chiaramente Avendo un organico più potente Ha anche giocato Abbastanza male Poteva fare molto di più Brevissimo Lorenzo A chiudersi Soprattutto A usare il portiere Donnarumma Nonostante non sia il massimo In questo videogioco Per questo video è tutto Commentate Iscrivetevi Fateci sapere che cosa ne pensate Di questa nuova serie Ciao a tutti da Nova Gamer